E ragazzi, come va? Io sono Fieriniki E io sono Steve, che si chiama GTA 5 E oggi torniamo con le nostre Detran Ovviamente sempre in compagnia di SP Giochi Perché altrimenti sarebbe impossibile farle da soli Quindi ci sta una terza persona Per picchiarci tutti quanti Esattamente, in realtà dovevamo essere in quattro Ci doveva essere anche Tearless Raptor Ma purtroppo gli ha dato un sacco di problemi il gioco Abbiamo provato per due ore a sistemare il gioco Anche a lui, ma non ce l'abbiamo fatta Quindi per questa volta registriamo soltanto Noi tre, però speriamo che la prossima volta Ci sarà anche lui, quindi andate da lui Voglio scriverli nei commenti tipo Ci dispiace Tearless Esatto, esatto, esatto Per dargli un po' di conforto Comunque ho trovato due mappe davvero fantastiche Per il Detran di oggi Questa volta Fieriniki ed Espy saranno aleati E io sarò contro di loro Praticamente hanno formato un team rosa Dato che Fieriniki ha questo suo nuovo look Che le piace tanto Che nome vorreste dare? Giusto per curiosità La... La... La primula Pensavo qualcosa col rosa Dato che siete entrambi rosa adesso Io pensavo qualcosa col rosa La primula rosa Hai visto? Io e Espy siamo perfetti assieme Cioè siamo perfetti Allora Siamo abbinatissimi Non sono molto d'accordo su lasciarvi in squadra insieme Guardaci, guardaci Siamo perfetti In realtà eravamo un uomo rosa Che si è diviso Espy Una parte rimasta in testa a me E l'altra parte Dei vestiti Su corpo suo Espy è l'unico che non ha criticato i miei vestiti qua Anzi gli sono piaciuti tantissimo Allora Diciamo che non ha un buon gusto Per come si è vestito Espy ha un gusto bellissimo Quindi Lo dici solo perché lo invidi Sì Espy è l'unico che non ha criticato i miei vestiti qua È vero Non ci troverà mai Guarda È tutta rosa questa mappa Dai una parte gentile Non vi ammazzo subito Siamo dei camaleonti Mi sta venendo voglia di ammazzarvi Quindi dovete stare parecchi attenti Io ve lo dico Allora Espy qua dobbiamo stare attenti Perché c'è una parte tutta scoperta Sì Allora non ci diamo colpi Vi piacciono i camion? No Eccone uno Espy soviva Guardami Non so come È sopravvissuta È un miracolo È fatta d'acciaio Ah 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 Ok ci sono Attenta a non cadere Devi correre Corri 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 Siamo scoperti Sì vi sto lasciando un attimino Attenta ai cubi Per essere incastrato in un muro Espy torna indietro Espy torna indietro Sì è incastrato da solo nel muro Ok Poi si è buggato ed è caduto Non so come Non so come Vai Espy Continua a parlare Continua a distrarlo Esatto Ce la devi fare Che sto soltanto aspettando Che sali sulla moto Guarda Espy bagatissimo Nel container Ok Lo vedo Sto nuotando nel container Di metallo Espy sta parte È difficilissima Concentrati Perché devi fare Una moto rosa Non c'è neanche una moto rosa Ma dai non sono forse Stavolta quelle rosa Ma non è giusto Facciamo così Sono tutte arancioni Vabbè il rosa sta bene Con il nero Espy stai attento Che ti vuole cecchinare Non appena esci Fuoco No Cosa ha fatto Ok sono salvo Sono salvo Grazie panchina Ok torna indietro Prendi una moto Ce la puoi fare Devi fare uno stanzo E praticamente Impenni in quel cartello E ce la devi fare Dai Espy Sì È stata la cosa È stata la cosa più bella Nel mondo Vedrò volare E oltretutto Sei pure salvato Vai Espy Ok Dai Ce la ho fatto Bravo Il potere del rosa Vedi tu Non le sai fare Ste cose Cosa c'è da queste parti Allora Allora So io cosa fare Vai Espy Gemelli carri armati Siete tutti miei Ah ma quindi Non ho vinto di già No 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 È solo una parte Devi ammazzarmi Per vincere caro Oh no Dove è finito Steph però Ah eccolo Andato L'hai ucciso Grandissimo L'hai ucciso subito Ma porca miseria Dannati carri armati Dai però che fortuna ho avuto A non volare via Ora mi tocca Sopravvivere A questi due E sarà davvero complicato Allora Ci possiamo vendicare Ma di che cosa Che avete pure vinto Spiegami di che cosa Vi dovete vendicare esattamente C'è sempre qualcosa Di cui vendicarsi Ma non è vero No 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 Corri piccolo Steph Corri piccolo Steph Dove è finito È qui È qui Espi Qua 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 Vieni Sto benissimo Guardala Sto ancora No Davvero vuoi fare una cosa così cattiva Sei caduto anche tu là Sono caduto da solo Nel senso che Ho visto il fuoco Per tornare indietro Il mio personaggio Fa 360 gradi di curva E quindi sono caduto Ma quello è l'obiettivo Distrarti per farti cadere da solo E farci vincere Adesso faccio il cattivo Allora Ho fatto il primo round Gentile Per farvi arrivare almeno A metà mappa Ve ne siete approfittati Per uccidermi Adesso vedete No no Adesso vedete Sono stati i nostri colori Ad averti confuso E Spigli ho tirato due colpi Ce lo stavo anche lasciando stare Il rosa E se la prende con noi Il rosa diventerà rosso E potete capire come Da soli Ok Perché Preparatevi Non dire queste cose Non essere una persona Così vi averla No preparatevi Io vi ho avvisato Allora vai Non voglio diventare rosso Ci piace il rosa Lascia ci stare Giochiamo a questo gioco Giochiamo a questo gioco Su su Oh no Espy aiuto Dai Mi sa che Perché state tentennando Su No è perché c'è già la cisterna Che esplode qua Moriamo male Ma no Stai sbagliando Espy Aiuto 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 Solta Solta Ma è una cosa Ma che ce l'ho fatta No Espy devi aspettare Ferinichi Giusto Allora ti cade una cosa in testa Cioè mi ha preso lo stesso Da dentro il container Ok Dove vi tornare Non lo so cosa sia successo Ma sono immortale Sono sopravvissuto Sia esplosione Sia un gigantesco pavolo Lo è che ciò può fare In questa lettera Ma dico io Espy sei già solo E sono passati solo 10 secondi Ops Mi sono distratto 35 secondi cari Ecco cosa succede A far arrabbiare Steph Stai zitto Quindi adesso mi fate arrivare Al carro armato Non credo proprio Va bene Non credo proprio Steph dove sei finito E sto scalando il container Guardalo 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 Sto scalando Spara Per favore non usate Ciò che io penso Facciamo cadere l'aereo Questo è l'ostacolo più bello Guardalo Ma che disastro Dove è finito Ragazzi L'albero si è incastrato Cioè l'aereo si è incastrato Nell'albero Ma dai Espy ma ti sembra Che l'albero Lo deve Vabbè Grazie Mi capita sempre Come con gli aquiloni Ma che tristezza Adesso gli buttiamo giù L'aereo in testa E invece no Allora che colore prendo Queste sono rosso Rosa Rosa Prendi il rosa No non lo prendo Se la prendi rosa Ti lascio vivere Prendo questa Che assomiglia a quella di Ferinichi No Allora Adesso No ti ha rubato la moto Questo è un affronto incredibile Perché solo io posso avere la moto Ovviamente per uno che fa gli stanze tutti i giorni È facilissimo questo salto Era una finta Oh no Mi ho fregati Che finta Allora spero di non esplodere Però spero di essere abbastanza lontano Ok Siete stati fregati da Steph Non è giusto Siete stati fregati da Steph E ora questo salto È facilissimo Guardalo Non devi fare il backflip Però la capione Non ho voluto rischiare Già che c'eri Dovevi farlo ancora con un po' più di spie State chiedendo troppo State chiedendo troppo Adesso abbiamo un piano per Esatto Espi Stavo cercando un posto dove nasconderci Sinceramente Eh già esatto Non ci sono troppi posti in cui nascondersi Avete ancora 10 secondi circa Io sto arrivando No 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 Corri Espi corri Corri in tondo Io faccio testamento Esatto così non cerca di prenderci Espi aveva detto una cosa carina prima Che la prossima volta Mi avrebbe voluto ammazzare investendomi Quindi adesso Espi corri Mi diverte un po' Non ti fa prendere Espi A colpirvi No No E schiacciarvi No Uno morto No E adesso anche l'altro Ma non è giusto Con che cattiveria Con che cattiveria La vendetta è finita Vedi un po' di rosa nella vita Ti farebbe bene Ti farebbe calmare un po' Assolutamente Ti è diventato rosso Come aveva detto Esatto Il cilindro da gentleman Se esiste rosa Mi piacerebbe Devo controllare No non puoi far parte del nostro club Prima mi invitate Poi mi rifiutate Spero che senti sul cannone Esatto Ferenichi Ferenichi E questo è il posto di cui mi parlate Assolutamente sì Andiamo Espi Andiamo 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 Finalmente dopo tutte quelle detran Guarda Io non vedevo l'ora di fare quello che mi piace Ma io non so nemmeno leggere il nome Cosa state facendo? Il nome? Aspetta Come si chiama? Non me lo ricordo Ponson Bis Ponson Non lo so nemmeno leggere Ponson Ponson Bais Non lo so Entra Entra e basta Dai non facciamo Lo dici Bais Non facciamo domande Entra E qui ti puoi scegliere tutto quello che vuoi Ci sono tanti articoli rosa Come piacciono a te Quindi puoi fare tutto quello che vuoi Come piacciono a noi vorrei dire Anche Però io sono già tutta rosa Sei come i tuoi soli capelli Mi sembra giusto Che esageri un po' di più Sai com'è Sai com'è Sai cosa ti mancano? Ti mancano un bel paio di occhiali rosa Ce li copriamo Devo prenderli uguali Dai Sì Sì Vai 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 Anche qualcosa per Steph No grazie Siamo bellissimi Vengo io a giudicare Allora Allora Possiamo anche andare a sciare Fatemi vedere un attimino Guardaci Non sono solo per la città Ma anche per sciare Siamo perfetti Esattamente Guardami Guardaci Guardaci Siete fieri? Molto Sì Sono fierissimo Anzi Ho in mente anche un piccolo extra Se mi dai due secondi Vai Vai 45 minuti non bastavano Ti dico se sei bene Vai Espi Vai 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 Scommetto che questo piace pure a te Cioè Si intravedono lo stesso i peli del petto Io non ho parole Cosa? Oh Eh Sì Perché sei geloso che lui No sei geloso che lui con i peli del petto Si è fatto uno smile E tu invece non ce l'hai Sei solo geloso Assolutamente Mi hai scoperto Mi hai scoperto Siamo in una nuova mappa E non te lo dico Noi stiamo entrando in galleria Allora Questa mappa è particolare Oddio Perché ci sono le scosse Le scosse elettriche Come le scosse elettriche Già Espi diciamo che le stesse cose contemporaneamente Oh mio dio Siamo troppi sinteni Ormai Io non devo fare nulla questa volta Posso anche stare qua A buttare il mio fucile da cechino Ecco Perché le scosse elettriche Faranno tutto Quindi guarda Ma dove sono? Non te lo dico caro Io non lo vengo Ah ecco l'ho visto Quando le vedrai sarà troppo tardi Ho visto Quando le vedrai sarà troppo tardi Non sto mentendo Noi rischiamo la vita Ma nemmeno si sforza Esatto Esattamente Ah Oddio Però se vuoi che mi sforzo Ecco te Espi Tieni Bastava chiedere No Espi Basta chiedere Hai volato malissimo Se vuoi morire Espi Me lo puoi chiedere Stef arriva e ti dà la mano Dai E ora il team in rosa È divisa metà Ma perché devi uccidere Espi E mi devi lasciare da sola Ha detto che non mi stavo impegnando Esatto Adesso non è più completa Ha detto che non mi stavo impegnando E gli ho dimostrato che si sbagliava Sono arrabbiatissima Non ha senso Io mi butto da sola Io mi butto da sola Non ha senso continuare Tanto tranquilla con le scosse elettriche Tranquilla che cari da sola a priori Non ha senso continuare Però se vuoi ti posso far esplodere Lasciami in pace Sono arrabbiatissima con te Corri corri Allora Vediamo Ti faccio il tempismo Le scosse elettriche Ho zaccato il tempismo No No Difficilissimo Adesso ci pensano le scosse elettriche Voglio Oh Sì È stato elettrificato Aspettate che tocco un po' di legno Così mi passa Ok Allora adesso Cosa vuol dire? Beh le scosse con il legno No secondo me no Si è caduto da sola? Aspetta Mi devo orientare Io sto guardando Espi Lo sto aspettando Salta Io purtroppo non vi posso vedere Come ho fatto? Non c'era la corrente elettrica su quella cosa Cioè c'è andato totalmente sopra Ogni tanto non la si becca Capito? In base alla giornata Sì 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 Piano Slalom Però vi consiglio di toccarla almeno possibile Ok Consiglio da amico Ok ce l'ho fatta Ok Ma tu non sei nostro amico Piano 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 Esatto No Ma porca miseria Fere Guarda Davvero È rimasto solo Espi Oddio No No Oh Espi Non gli dà la scossa 5 dollari che era cade Salta No Ok Ok Vai 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 Ci sta sopravvivendo? Sì ce la fa Posso farvi cadere una cosa in testa? Oh no cos'è questa? È una fabbrica della morte questa Allora Voglio provare questo Vedere cosa succede Scusate No non fare cose Hai detto che non sta Attenti Attenti Uh cosa c'è qua? Vai vai Il cararmatino Ha trovato il cararmato Espi Mi raccomando Ormai è la tua fine È la tua fine Ma dov'è Stef? Mi sono nascosto Ti è nascosto davvero? No Ma dai Codardo Ma dai Allora devo Oddio No Sto cadendo dall'edificio Non ci credo Va bene Sono ancora vivo Stef non è che puoi scendere Grazie In realtà mi sono auto ucciso Perché pensavo di aver vinto Mamma mia L'hai fregato cadendo da sola Sei davvero? Davvero devi vincere cadendo? Io ho fatto Ah è morto Mi butto giù E invece sopravvive Sopravvive Sì Ma parca miseria Solo Espi può vincere così La fortuna che oggi Espi è una cosa incredibile Ti ha preso 45 scosse elettriche Ed è ancora lì birbante Che corre tranquillo No Mi sono Una scossa elettrica Una Perché secondo me le ciabatte Le ciabatte in plastica Avevi le ciabatte Le assorbono È l'unica spiegazione È giusto perché sono di plastica È l'unica spiegazione logica Ha senso Ho un po' di paura Però Buona fortuna Ci posso riuscire Allora L'importante Ce la puoi fare È andare piano 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 Così Morirà malamente Io lo so già No Fede Devi avere fiducia Teniamolo d'occhio noi Avete fiducia in me? No Ditemi di sì Dai Ditemi di sì Un sacco Grazie Espi Almeno tu Espi ti prende in giro Solo per non farmi male Non è vero Espi credi me Espi credi me Sei solo tu cattiva Tantissimo Vero Espi A quale parte delle scosse elettriche sei arrivato? Ho appena superato tutta la parte della salita Adesso devo fare la parte finale Qua devo saltare Guardalo Non toccarlo Attento che arriva la parte più difficile L'ho sferata Allora Questo personaggio è un salame Perché nella vita reale sarebbe la cosa più semplice del mondo In questo gioco è la cosa più difficile del mondo Ti prego Ovviamente No 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 non cadere Ok Mamma mia No Espi Sono già dentro il carro armato Espi Rino è il carro armatino Come si dice Rino è il carro armatino Allora Puoi essere simpatico e non ci riesci Esatto Per caso Giusto per farvi una domanda Vi siete nascosti nello stesso posto in cui mi ero nascosto io prima? Io corro via Colpa di Espi Cavolo si vedevano solo i suoi capelli rosa Quanto è bella ammazzare Espi È la cosa più bella Fere guarda a te ti lascio anche in vita Perché ammazzare Espi dà una soddisfazione superiore Ho trovato un posto dove scappalo No 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 Ferre era un modo di dire quello che dicevo Non cade dentro Non cade Ci stavo provando da due ore È tipo tappato Mi giro un attimo e quella si sta scalando un palazzo pur di scappare e sopravvivere E ci puoi contare non mi fido Che criminale Comunque direi che ci possiamo fermare così Speriamo che il video vi sia piaciuto Nel caso tanti like, commenti, sondaggini Fateci sapere tutto quello che vi viene in mente Anche se vi sono piaciute di più queste mappe di Detron Nel rispetto a quelle della scorsa volta Secondo me sì perché erano un po' più divertenti E ci fermiamo così Beh ragazzi non riesce così Se ci lasciateci un like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare a ridere di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao